Ciao Che te sposi? Si mi sposo Grazie Vai Michele Michela Non ti prendo Ora si, no, ora Maria un po' più dentro, ok così Cucciarissi 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 Ma non mi prendo così Vai Cucciarissi 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 Voi siete maschi, chi è che si gratta le palle Un attimo Perfetto Non ero padrona Delle mie Patrona No Tremi Fai Persone L'amore Prima Questa 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 Istruzione numero uno, non perdere mai il cordone del recuperatore. Che ciabatte però mi chiamo in maggior parte. Perché stai allaggando? Marco, state girando stasso? Come stasso la porta? Dicevo, con quale pezzo hai sordito? Shhh! Shhh! I'm just feeling like a little star. Ma allora non è vero che lei tratta i suoi subordinati come schiavi? E stasso trattando come una persona normale? No! E perchè? Ma come no? Because she is my leader in Rome. No! Ha ha ha!